Settima rievocazione del Gran Premio di Bari, anche quest'anno il capoluogo pugliese ospita la gara di regolarità per auto d'epoca, organizzata da Old Cars Club nel quartiere Miurà. Un'edizione inserita nell'asi circuito tricolore, ricca di spettacolarità dopo la sosta forzata a causa della pandemia. L'evento con cadenza biennale, che caratterizza il capoluogo, ha coagulato ancora una volta appassionati da tutta Italia. La manifestazione è realizzata con il sostegno del comune di Bari e della regione Puglia, partenza alle 9 con l'inno di Mameli e il briefing dei piloti, alle 10 la prima delle tre manche di gara. A partire da Piazza Prefettura, il circuito poi abbraccia tutto il borgo antico e offre ai piloti la possibilità di sfilare in piena sicurezza, in un concentrato adrenalinico ed emozionante per equipaggi e spettatori, che hanno riassaporato il ricordo dello storico tracciato del Gran Premio di Bari, che si percorreva alle massime velocità della Formula 1 del tempo. Tra le circa 50 vetture di altro pregio artistico e collezionistico, che hanno preso parte alla gara, spiccano i leggendari marchi Stanguellini, Ferrari, Taraschi, Alfa Romeo, Maserati e Lotus. Siamo particolarmente felici di tornare a ospitare questa settima rievocazione storica e il commento del sindaco di Bari, Antonio De Caro. Le immagini straordinarie che abbiamo visto ci ricordano lo spettacolo di questa città e quanto un evento di questo tipo sia un elemento attrattivo per l'intera regione.